Oggi Passerpini è venuto a Sperone a conoscere i tre amici che hanno lanciato sul web il video Happy from Sperone e che ha avuto un grande successo con oltre 3.300 visualizzazioni. I amici che sono qui abbiamo Giuseppe che insieme a Tommaso e a Pio hanno realizzato questo bel video che è stato veramente un divertimento. Allora, com'è nata questa iniziativa? L'idea è nata in modo molto semplice, sostanzialmente tra amici si è parlato di questa cosa dopo aver visto che il fenomeno Williams si stava prendendo su base mondiale, è un fenomeno virale di tipo mondiale e ci siamo detti perché non far sorridere anche la cittadinanza di Sperone fondamentalmente partendo dall'idea che a Sperone si era creato un clima un po' pesante dal nostro punto di vista e quindi volevamo che invece le persone tornassero a sorridere. Voglio raccontare questa cosa partendo da un aneddoto molto rappresentativo al nostro giudizio e cioè che praticamente è stato il primo giorno che era un sabato pomeriggio siamo sostanzialmente partiti dal corso di Sperone e alla partenza i cittadini erano molto diffidenti quindi rispetto a noi c'era un atteggiamento di distanza. Poi dopo il primo passaggio dei commercianti invece al ritorno abbiamo notato una grande goliardia, simpatia ai nostri confronti e un momento di distensione che ci voleva per Sperone. Invece Tommaso qual è stata la difficoltà nel creare questo video? Beh, quello di appunto come mi rilascio a Peppe, quello di coinvolgere un po' tutti perché la novità è quando si porta la novità non sempre è vista di ben occhio soprattutto se inviti la gente a ballare all'improvviso per strada però comunque penso che sia stato un bellissimo successo e quando c'è passione per il proprio paese non può che uscire tutto bene e anche dico attraverso queste cose si vede il buon uso di internet perché attraverso queste iniziative l'idea che viene da internet noi nel nostro paese l'abbiamo inserita perfettamente e niente, io penso che l'amicizia in queste cose è la parte fondamentale perché al di là di schieramenti o colori penso che l'amicizia va oltre tutto e niente, poi ringrazio veramente tutti gli speronesi Dacci una spiegazione, quali sono stati i commenti delle persone dopo che hanno visto il video? I commenti prima del video è vabbè no, no, non voglio, non voglio, ho vergogna poi dopo lo voglio fare anch'io, posso partecipare vabbè si sa che alla fine va a finire sempre così però purtroppo mi dispiace per chi è rimasto fuori perché ormai il video l'abbiamo chiuso non possiamo più inserire, magari in un prossimo Happy From magari ci sarà possibilità di inserire qualcuno anzi, ho saputo che anche altri paesi, Avella, Baiano, Mugnano vogliono farlo, mi fa piacere e adesso anzi, siamo contenti di questa iniziativa che abbiamo lanciato perché così attraverso noi possiamo estendere questa idea attraverso tutti gli altri paesi Invece a Pio chiediamo, abbiamo saputo che state organizzando anche un premio per darlo alla persona più simpatica di tutto il video? Sì, abbiamo deciso di comune accordo di scegliere una persona tra le tante che sono state coinvolte in questo video e quella che è meglio sentita parte di questo video quindi una parte integrante di questo progetto di dargli un premio, un premio simpatica, un premio interpretazione ci sono alcune persone che hanno, che sono sentita proprio parte di questo progetto che hanno ben ballato in questa casa e quindi noi in questi giorni finiamo di decidere la persona adatta per questa premiazione e l'anterepissiamo noi stessi di persona e qualche foto insieme così e poi chiederemo cosa ne ha pensato di questa iniziativa se è rimasto contento, se magari è propenso ad iniziative future in questo caso Ok, noi ringraziamo gli amici di Sperone che hanno realizzato questo divertente video e vi auguriamo ancora tanta buona fortuna per le prossime iniziative Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!